E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amiche ed amici sportivi ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. Seconda giornata del campionato italiano con l'anticipo di lusso dello stadio Ferraris di Genova in campo Genoa e Juventus. A inizio il primo tempo, possesso di palla per il Genoa, si propone Pandev, su di lui la presenza di Alexandro, Pandev, Pandev dentro l'area, il tocco, la palla in rete, sono passati 19 secondi, 19 secondi, passa in vantaggio il Genoa, incredibile Amarassi. Va Pjanic con il destro, il colpo di testa, la parata di Perin! Gran parata di Perin, subito il portiere del Genoa ha chiamato a rispondere al colpo di testa di Guain. Tarapt, lo spunto, termina a terra, attenzione, termina a terra, Galabinov, prova televisiva, attenzione, Var, e c'è calcio di rigore! Galabinov, Galabinov va con il destro, Galabinov, il raddoppio, il raddoppio del Genoa, il gol di Andrei Galabinov, il primo gol in Serie A con la maglia del Genoa, del centroavanti bulgaro. Higuain, Higuain per Pjanic, Di Bala, e la palla in rete, il gol della Juventus al quattordicesimo minuto, di mezzo allo svantaggio Paolo Di Bala. Lazovic, il cross, a cercare Galabinov! Palla fuori di pochissimo! Gonzalo Higuain riesce a verticalizzare Di Bala, Di Bala! La parata di Perin, Mandzukic ancora Perin! Ed è calcio di rigore per la Juventus! Va Di Bala, e la palla in rete, il pareggio della Juventus! Ha pareggiato la Juventus alla fine del primo tempo con il gol su calcio di rigore di Paolo Di Bala! E' iniziato il secondo tempo. In profondità, Mandzukic, quadrado, quadrado, il dribbling, quadrado! E la palla in rete! Il gol del vantaggio della Juventus arriva con Juan Quadrado al sessantaduesimo minuto! L'Axalt è su di lui, Matuidi, L'Axalt! Manda fuori! In mezzo alla conclusione, è la parata di Buffon! Mandzukic, la discesa di Mandzukic, Higuain, Higuain, ancora da Higuain per Di Bala! Di Bala prova il sinistro e la palla in rete! Il gol del 4-2! Il gol del 4-2 è tripletta per Paolo Di Bala! A posto così! Finisce con la vittoria per 4-2 della Juventus in casa del Genoa in questa seconda giornata della Serie A Team!